La proposta di costituire quattro cooperative rispettivamente con lavoratori, allevatori, trasportatori e settore commerciale, coordinate tra loro per equilibrare avanzi e disavanzi di gestione, era già stata prospettata al Tavolo Tecnico Nazionale dal Presidente Frattura come possibile soluzione definitiva della vicenda Gamme Solagrital. L'ipotesi è stata approfondita nei giorni scorsi tra la confe cooperative che l'ha proposta il Direttore Generale della Regione Antonio Frangioni e quello della FIMOLISE Lorenzo Cancellario. Noi stiamo proponendo un modello, peraltro già visto parecchi anni fa in Germania, ma anche in Italia e in altre aziende, che prevede sostanzialmente la partecipazione del lavoratore alla vita dell'azienda, anche da un punto di vista del capitale, quindi un apporto di capitale personale. Ovviamente nel caso specifico, tengo a sottolineare, è stato già previsto una maniera di finanziare tale apporto. Convinto del suo progetto anche Domenico Calleo, Presidente di confe cooperative Molise. Non dimentichiamo che in Molise abbiamo moltissime cooperative, però sono micro imprese. Questo è il modello che invece vorremmo noi attuare in una grossa impresa, in una grossa filiera. L'impegno sarà quello sicuramente di assistere e di monitorare tutto il percorso, mettere a disposizione di personale qualificato tutta la filiera, mettere a disposizione il sistema bancario, perché all'interno della nostra rete ci sono le banche di credito cooperative che sicuramente potranno dare un grosso impulso. E non dimentichiamo poi che c'è il sostegno di confe cooperative nazionali attraverso il Presidente Gardini, che è anche il Presidente di Fedagri, che proverà a contattare le nostre grosse cooperative nel settore dell'avicolo per portarli qui in Molise e vedere in che modo si possono intersecare con questo piano industriale. Abbiamo bisogno di tutti, sia la parte politica, sia la parte istituzionale, sia la parte sociale, ma soprattutto quella dei lavoratori, di credere in un progetto che può praticamente determinare il loro futuro e dell'economia regionale. E ieri pomeriggio il Governatore Paolo Frattura e i parlamentari del PD Roberto Rutta e Danilo Leva hanno incontrato a Roma proprio il Presidente nazionale di confe cooperative Gardini e Francesco Amadori che, insieme a Veronesi e a Granarolo, aderiscono a confe cooperative. È stato solo il primo incontro che però è servito ad avviare il percorso che impegnerà anche la Lega Coop, hanno commentato i protagonisti dell'evento. Intanto è rientrato lo sciopero degli addetti all'incubatoio, ma Giancarlo Diglio della RSU ha chiesto di attivare subito un tavolo al Ministero del Lavoro per aumentare le risorse destinate alla cassa integrazione in deroga.